Monica Sinistri, un nuovo membro della Giunta, ce ne parla il Sindaco Alessandro Cattaneo. Ogni volta che arriva un nuovo assessore è l'occasione ovviamente per fare il punto della situazione e pianificare il lavoro che aspetta per le deleghe che io ho affidato. Questa volta è ancora più pressante e importante perché siamo negli ultimi 100 giorni dell'amministrazione Cattaneo e quindi preme dare obiettivi certi, raggiungibili e come sempre in piena trasparenza l'abbiamo fatto di fronte ai media. Quindi Monica Sinistri ha illustrato le progettualità che la coinvolgono sui servizi al cittadino quindi a rendere l'amministrazione più amica del cittadino e non che il cittadino si senta sempre vessato dall'amministrazione pubblica. Progettualità sull'innovazione tecnologica, progettualità sul decentramento e progettualità sulle pari opportunità. Sono tutte attività che per questa amministrazione sono prioritarie e molto importanti. Oggi abbiamo raccontato, e lo sentiamo dalla viva voce di Monica, quello che aspetta il Comune di Pavia su questi fronti molto importanti. Siamo con Monica Sinistri, nuovo membro della Giunta. Inizia per lei una nuova esperienza. Come la affronterà? La affronterò in modo dinamico e concreto perché comunque sono una persona così. In questi giorni ho avuto comunque dell'ottimo supporto da parte degli uffici perché sono tutte persone molto preparate. I progetti iniziati li porteremo a termine e in più cerchiamo di inserire qualche nuovo progetto nel poco tempo che ci rimane. Però noi ci proviamo. Ci può parlare di qualche progetto a cui intende dare la priorità? Dal 7 aprile al 14 aprile ci sarà il Festival degli Alfabeti Differenti. È già a buon punto. Ci stiamo organizzando per fare anche qualcosa in più rispetto all'anno scorso. A maggio, dal 17 maggio al primo giugno invece, ci sarà Bambin Festival. Anche qui faremo delle belle iniziative. In questo progetto sono coinvolte anche le associazioni di volontariato. Abbiamo poi il progetto Protese, che è un progetto specifico contro la violenza alle donne. C'è anche un concorso fotografico, artistico. C'è anche un concorso artistico. Per quel che riguarda invece la situazione dei tempi, abbiamo questo progetto che è Pavia 2.0, dove tramite la collaborazione con la Regione stiamo sviluppando tre concetti fondamentali. Uno è Icaro, si parte dalla nascita dei bambini e quindi tutti i documenti legati a questo evento. Abbiamo poi la PIA in un'app, quindi la pubblica amministrazione in un'app, logicamente rivolta più alle persone che utilizzano iPad, iPhone, Android e tutti questi strumenti. E infine per le persone che invece non sono già tecnologicamente avanzate, ci sarà questa iniziativa nella quale le persone over 65 nei quartieri avranno la possibilità di fare un corso per l'utilizzo del computer, soprattutto nell'utilizzo pratico, perché sia per andare all'IMSS sia per andare all'INAIL. Oramai tu puoi accedere direttamente dal computer. Di conseguenza bisogna insegnare a queste persone, quelle che hanno voglia, come si può risparmiare tempo. In questo forse riusciamo anche a aumentare qualcosina. Vediamo.